Grazie, grazie, grazie per tutto, voglio che... Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Rosa, tanti auguri a te... Siamo arrivati a fare gli auguri a Rosa, ciao, buon anno, buon Natale, buona Pasqua, buon San Valentino, come sempre, ehi, quindi facciamo, tanti auguri a te... In diretta, c'è Gianni, no io mo me ne devo andare, due parole per gli amici che guardano... 5 minuti ancora, le 7 e mezza adesso, voglio mangiare una torta... No, non la mangio poco... E Davide, che sta a fare Davide? Amore di nana! Sta solo a cucinare... Dato che devi fare? A cucinare... A cucinare? Che sa cucinare? Le zucchine? Eh, una cosa buona, una cosa buona... Le zucchine... Amore... E mi dai bacino e dici auguri alla nonna... Da stamattina che te lo chiedo... Domani... E dici, nonna Rosa, tanti auguri alla nonna... E dici, nonna Rosa, tanti auguri... Auguri... Amore... Scioccata... Perché fai quella faccia? Domani te lo dico, nonna... Niente da fare, oh, niente da fare... Vediamo la torta... Andiamo a vedere la torta... Andiamo a vedere questa torta... Vediamo questa bella torta... Wow... 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 E la parte di 50... Che cos'è? Un buon compleanno? Un buon sessantesimo... Vabbè, non potevi scrivere il numero... Lascia stare... Non si scrive... 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 Si scrive... Non si scrive... Lo sa... Lo sa... Lo sa... Lo sa... Lo sa... Un buon compleanno da tutti noi... Grazie... L'hai fatta tu De Lucia? Non la fa... E non si vede che l'ha fatta dentro... Sì? E tu? Che bella... Allora...